E' bellissima questa immagine che consolida un percorso culturale e politico con la più maiuscola che stiamo mettendo in atto in questi anni, una città che viene militarizzata dalla cultura, i giovani si contaminano tra le loro capacità e i loro talenti, la gente rimane colpita e la musica attraversa le strade e i vicoli della nostra città. Questo è un messaggio potente, ricco di cultura, di creatività e di giovani. Stamattina 1.500 ragazzi del progetto Valore Cultura Alternanza Scuola Lavoro hanno preso parte al Flash Mob di Piazza del Plebiscito organizzato dal San Carlo e dedicato a George Gershwin. Carlo Morelli, direttore del Coro dei San Cardini e responsabile del progetto formativo con laboratori sulle arti e sui mestieri dello spettacolo, ha diretto quella che può essere considerata un'anteprima per il concerto di questa sera, quando il San Carlo sarà invaso da orchestre, big band, coro e corpi di ballo delle scuole della Campania. Poi tra l'altro loro sono bravissimi, il maestro Morelli, i ragazzi li ho visti crescere, io personalmente ci ho creduto al primo momento, anche quando nessuno ci credeva che questo potesse accadere a Napoli e adesso è tutto così stupendo perché tutto va da sé, indipendentemente dai direttori d'orchestra. Grazie.